eccomi ben ritrovati e ben ritrovati a tutti quanti grazie per i messaggi anche che mi avete scritto chi gli amici chi insomma gli utenti di questa piattaforma mi hanno fatto gli auguri vi ringrazio vi ringrazio davvero davvero in tantissimi ce l'abbiamo fatta ora siamo tornati in pianta stabile l'assenza è stato solo di tre giorni alla fine pensavo pensavo di più abbiamo concluso tutto con un po più di anticipo e niente eccoci qua di nuovo dopo questa laurea che non farà non contra niente siamo sempre più disoccupati e sempre più senza lavoro sempre più precari io spero posso fare il suo chef di cristiano giuntoli quello il mio obiettivo il mio obiettivo esattamente quello far parte della cucina di maestro giuntoli mi fa bene iniziare anche come sguatero non è un problema non è assolutamente un problema e niente magari per i più curiosi ve lo posso anche dire mi sono laureato in calcio scienze motorie per il calcio per chi lo volesse per chi se lo stesse chiedendo quindi cercherò di fare di questa passione anche il mestiere cercherò di portare in parallelo e perché no creare una compartecipazione di intenti tra il mio eventuale misterio anche questo di youtube e io vi ringrazio ovviamente il segui è sempre qui i follower su instagram su tiktok dove sono sempre aggiornato sono qua e parliamo di calcio e facciamo calcio come fa quell'altro ma vabbè detto questo vabbè adani un saluto un saluto a daniele adani che c'è da dire per fortuna è passato un po di tempo dall'ultima volta che ci siamo visti in questo po di tempo non è successo praticamente niente siamo bloccati siamo letteralmente bloccati mi aspettavo una situazione di stallo dopo un inizio scoppiettante ma non è tanto il problema che siamo bloccati in questo momento è che non c'è la parvenza di poter sbloccare la situazione in tempi brevissimi addirittura Zazzaroni stesso che io lo prendo sempre con le pinze ragazzi Zazzaroni è un cacciarone di prima categoria che ha solo il ruolo e il compito di buttare Zizzania per appunto sulla Juventus soprattutto ricordiamo che è un giornale del centro il Corriere dello Sport che si occupa molto di Roma ma a prescindere lui è anche bolognese tifa Bologna figuratevi se adesso non deve portare avanti una crociata anti Juventina come la faceva prima ma pro Allegri insomma un bel venduto non mi taccio qui non vado oltre insomma Zazzaroni riporta delle parole di Giuntoli espresse in un determinato contesto ed è appunto la volontà ferrea e anche abbastanza burbera per come è stata riportata di Cristiano Giuntoli di trattare con la Roma non per Sulee ma per Federico Chiesa diciamo che il banco delle uscite si sta tenendo proprio lì abbiamo parlato nell'ultimo video chi sono i più vendibili? i giovani e Chiesa per tenere i vari Bremer e i vari Vlaovic sacrificare i giovani per poi portare questi soldi in un eventuale calciomercato in entrata che ancora c'è tanto da fare non verrà affatto tutto in questa sola sessione di mercato serviranno altre sessioni di mercato sappiamo che l'obiettivo della Juve è ridurre i costi obiettivo fondamentale, principale, dichiarato ma comunque cercando di non perdere qualità all'interno della Rosa e questo è quello che sta facendo la grande fino adesso Cristiano Giuntoli cosa ha fatto quest'ultimo con Collodi? ha apertamente detto questo noi Sulee non ve lo vendiamo a queste cifre tra l'altro cioè a 20-22 milioni proposte dalla Roma di De Rossi e dei Fritkin alla Juventus vi dovete prendere Chiesa vi dovete prendere Chiesa e Sulee io me lo vendo in Premier League ci sono vari punti di osservazione importanti Sulee non vuole e questo è una cosa che ho saputo ho saputo andare in Premier League se non in qualche squadra ovviamente media top non vuole andare all'Eister e la Roma a sua volta non vuole Federico Chiesa ma vorrebbe Sulee che è molto più giovane pensa di poter sposarsi meglio col progetto di De Rossi è ancora intonso, intatto a livello di infortuni ma soprattutto la Roma non ha affatto gradito il dietro front è manifestato da Federico Chiesa nei confronti della Roma stessa ponendo appunto in cattiva luce il ragazzo perché aveva detto no la Roma non ci voglia andare perché comunque è un downgrade io vorrei giocarmi le mie carte la Juve ma c'è questo problema c'è il triangolo? no! l'avevamo considerato invece sì appunto Chiesa vuole rimanere vuole rinnovare a cifre più alte la Juve non lo vuole lo vuole dare Sulee lo vendi solo e soltanto su richiesta di cifre importanti perché Tiago Motto lo vorrebbe tenere ma se te lo tieni non puoi comprare altri ma non vuole andare all'Eister vorrebbe andare alla Roma che a sua volta ha offerto almeno 10 milioni in meno rispetto a quanto chiede la Juve e quindi siamo e il triangolo si chiude col fatto che la Juve è bloccata sul mercato semplice banale sacrosanto eh? altro non si può dire è abbastanza complicata qui situazione perché Copminers ci aspetta Todiboh ha raggiunto un accordo sulla base di 2 milioni di euro sul proprio ingaggio il Nizza ci aspetta e Todiboh stesso ci aspetta Sancho boh discorsi con Tenag particolari stato reintegrato di nuovo in rosa ha avuto questo patto di non belligeranza con l'allenatore olandese al Manchester United quindi pista decisamente rallentata rimane sempre a Deyemi ma bisogna far cassa c'è la Juve che aspetta Kostic che se ne va Hauser nel Paris Saint Germain che vorrebbe una cifra più bassa non vuole offrire più di 20 milioni la Juve ne vuole almeno 25-28 si aspetta l'uscita di De Sciglio e non si sa quale santo incroce se lo può prendere si aspetta l'uscita di Rugani che è stato proposto al Shalab non ho capito in quale squadra araba che andrebbe a prendere un bel po' di soldoni si aspetta l'uscita di Scesni ancora il suo ingaggio è rimasto di Gregorio l'abbiamo preso Scesni non l'abbiamo ancora sistemato diciamo una situazione un po' delicata forse il momento di Giuntoli non dove sta perdendo colpi ma dove deve dimostrare davvero di essere il numero uno per me sta lavorando alla grande alla grande se riesce ad uscire da questa situazione con un gruzzoletto dalle uscite fondamentale e importante e doveroso allora abbiamo fatto bingo col direttore tecnico abbiamo fatto bingo col direttore sportivo abbiamo fatto bingo con il executive chief chief of the master questo è quanto perché se Giuntoli dovesse raggiungere quello che vuole fare ovvero dalle cessioni soprattutto di lasciamo stare gli scarti l'abbiamo già detto in altri video ma soprattutto di chiesa su Le e Hausen se con questi ultimi tre riuscisse ad ottenere quello che vuole 80 più o meno la cifra sarebbe 85 milioni di euro allora sarebbe un fenomeno ma la palla adesso aspetta a lui e noi aspettiamo questi prossimi colpi perché giovedì ci sarà la conferenza stampa di Tiago Motta e ci saremo ovviamente live reaction della conferenza stampa mi raccomando ancora una volta iscrivetevi attivate tutto quello che dovete attivare perché poi si parte in Germania si parte in Germania verranno reintegrati i nazionali e poi si inizia a giocare ragazzi si inizia a giocare l'impianto l'ossatura lo scheletro della squadra deve essere fatto poi si l'ala l'esterno il terzino si possono completare verso agosto cercando un'occasione barra una speranza forse ma bisogna avere per almeno inizio agosto e mancano sì un paio di settimane l'ossatura e l'impianto stabile della Juventus Football Club 2024-2025 staremo a vedere è una situazione veramente difficile veramente grazie già a chi mi farà gli auguri ancora una volta speriamo che sia un bel percorso da fare tutti insieme anche questo di Youtube ciao